Quanta cura e attenzione mettiamo verso i nostri bambini? Stessa cura e attenzione la dovremmo mettere allorché ne acquistiamo dei prodotti a loro dedicati, in particolare i lettini che devono essere sicuri e quindi verificati dal nostro laboratorio per poter essere utilizzati in tranquillità. L'arredo infanzia sono gli articoli più delicati sotto l'aspetto sicurezza, questo ovviamente perché il bambino è una figura che non ha una grande cognizione del pericolo. Le norme appunto hanno lo scopo di ridurre al minimo il rischio di infortuni da parte del bambino, questo a partire innanzitutto dall'aspetto dimensionale, ci sono dei precisi requisiti che vanno a evitare delle particolari distanze che potrebbero essere pericolose per il bambino al momento che ci va a inserire le dita piuttosto che la mano, i piedi e addirittura la testa con conseguenze di magari rimanerci incastrato. Dopo l'aspetto dimensionale si va a verificare l'aspetto della resistenza meccanica con variate prove sui vari componenti che compongono il lettino, quindi a partire da prove di urto e fatica sulla rete a prove di urto anche sulle stecche laterali, sulle sponde, sulle pediere. Alla fine delle prove il CATAS rilascia un rapporto di prova che è un documento che certifica la conformità alle norme dei prodotti provati.